Lo sapete come fa un campanello a casa delle scimmie? King Kong Lo sapete come si uccide un orologiaio? Con il pendolo Lo sapete come si chiama il figlio più piccolo di Alibaba? Alibabe Lo sapete come fu costruita la città di Troia? Battone dopo battone Lo sapete cosa dice una mosca davanti a un cancello? Mosca balco Lo sapete cosa disse il cerchio al triangolo? C'è qualcosa che non quadra Lo sapete cosa dice un pulcino nel forno? Pio fuoco Lo sapete cosa fa una sardina dopo la doccia? S'acciuga Lo sapete